vai vai lì dove c'è il tuo seme bravo vai 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 in alto e non a quella di sinistra dagli forte qua grazie a tutti prova a farla da fermo sotto vai 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 a casa via domenica ho provato da lì ho girato sotto con la tua arrivi sul comodo dove è zio seme girato indietro no sono arrivato qua che ero ma la tua spunta di più va via più veloce farla da sotto domenica l'ho fatta da sotto sono arrivato grazie a tutti Grazie a tutti.